Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Dodgeball Accademia, o Accademia insomma. Avete presente quel gioco che si giocava tanto a scuola, che tanti conoscono come palla prigioniera, io lo conosco più come palla guerra, ma lo chiamerò poi palla prigioniera, beh qua hanno studiato un gioco interamente su questo sport diciamo, dove bisogna lanciare la palla insomma e colpire un avversario ed evitare che questo magari intercetti la palla e ce la rivolga nuovamente verso di noi. Lo definiscono un gioco di ruolo con una storia, dei vari personaggi, diviso capitoli, si comincia. Questi sono i tre istruttori poi puoi sentire l'eccitazione nell'aria? Sa di chiuso? Sono curioso di conoscere i nuovi ragazzi quest'anno, senza dubbio il torneo svelerà nuovi e strepitosi talenti. Il torneo? Finalmente vi ho trovato, perché siete sempre chiusi qui dentro? Questo posto sta di chiuso, dovreste aprire una finestra. Principale? Sei qui, sei qui, sei qui? Sono arrivati, sono arrivati? Sì sono arrivati, i nuovi studenti sono arrivati, energici, con la freschezza della giovinezza. Questo suona strano uomo. Vabbè, inizia la cerimonia di apertura. È un gioco davvero molto simpatico, non è purtroppo in italiano, è uscito il 5 di agosto e costa 24,99, quindi non costa certo poco, però graficamente lo trovo veramente molto carino. Questo è 8, 8 fai questo, 8 fai quello, devi onorare la tradizione della tua famiglia. Poi arriva una lettera e qui si vede qualche riferimento con qualche saga, con qualche maghetto, con una cicatrice, diciamo a me ricorda quello ma non voglio nominarlo. congratulazioni, siamo lieti di comunicarle la sua missione alla palla, palla prigioniera accademia, all'accademia della palla prigioniera, la migliore scuola di dodgeball, giocatore di dodgeball dell'intero mondo. E lui è contentissimo e fugge, va verso questa nuova avventura prendendo il pulmino, lo scuolabus e si reca sul posto. Graficamente è carino come ho detto, lo sport è veramente carino da giocare, ci guarderemo il tutorial insomma e lui ovviamente arriva vestito da allenatore di pokemon, ma va bene. L'ho fatto davvero, sono veramente qui, sono veramente qui come dissero, come sopravvivere a un deposito valigie, vabbè. Comunque la mappa della scuola l'ho scaricata sul mio telefono, è tutto pronto? Guarda l'orario è tardi, mi perderò la famosa cerimonia di cui ho sentito tanto parlare, ma è main quest, inizia. Ok, entriamo, entriamo alla dodgeball academy, accademia. È già iniziata la cerimonia, così questa è la famosa dodgeball accademia. La chiamo dodgeball, non palla prigioniera né palla guerra, così almeno ci capiamo. Eccolo qua. Ci fa vedere un po' una panoramica di quello che è il campus e soprattutto c'è un qualcosa, diciamo, di livello esoterico che ci si parla davanti, perché adesso lo scopriremo, non vi spoilerò assolutamente nulla. La cerimonia è davvero iniziata. Ok, adesso mi posiziono. Devo veramente sbrigarmi. Ok, dai, ci mettiamo qua nell'angolino. Penso dovrei provare a guardarla da qui. C'è già qualche nervoso, qualche caso umano nel pubblico guardare dalla faccia. E allora l'eroe, eroicamente, ha lanciato questa palla contro la roccia e ha continuato a combattere. La pace regna da allora. Ok, abbiamo una reliquia che mi ricorda un certo, non lo so, una sorta di cappello parlante, però non lo so. Vabbè, questo è un grande giorno e l'artefatto ora potenzia l'intero istituto. Non potrebbe esistere, senza, di esso. Con la storia, noi in pratica ricordiamo questa storia con questa cerimonia, in sintesi. Chissà, magari un passo avanti e magari uno di voi diventerà un eroe, insomma, il senso dovrebbe essere questo. Inizia il primo. Molto coraggioso, va e deve toccare l'artefatto. Mi sento così potente. Sono potente, è una forza da natura. Nessuno può resistermi in una cosa del genere. Adesso dico, adesso basta, è abbastanza ragazzo. Yes. E va via. A ride perché comunque è stato divertente. Non mi sono perso la cerimonia, ma non posso vedere molto da qui. Devo avvicinarmi un pochino. Scusate, scusate, scusate e passo avanti. E guarda a caso chi chiameranno. Il prossimo è... Nino, che è il nostro ansioso, ansiolitico a fianco, dice, finalmente ho aspettato così tanto. Potrò scoprire e risvegliare il mio vero potenziale. E chiamano noi. Chiamano Otto e non Nino. Chi è che mi ruba la scena? Otto? Mi? Ah, ok. Vado. E tocchiamo l'artefatto e vediamo cosa effettivamente succede. Tocca la reliquia e risveglia la potenza che hai in te. Vediamo, vediamo. Funziona. Posso sentirlo, il mio potenziale. Come diventerò? Così chiaro. E andiamo a giocare. Contro questo avversario scuro vedete che con la X o la K possiamo lanciare la palla. Ne prendo già un'altra e la lancio uguale. Il gioco poi ci spiegherà tutti i comandi andando dopo. Possiamo anche avanzare. No, non possiamo. Ahia! Oh, fortunatamente. Ui, 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 ui. Possiamo anche saltare. È veramente molto carino. Ahia! Perché possiamo saltare poi. Possiamo evitare. E ora arriva il mio attacco finale. Un po' la Oli e Benji qua. Ok. E ce ne svegliamo. Questo giovane è così impressionabile facilmente. Ora lasciamo spazio ad altri studenti. Va bene. Andai, vai tu, va. Nino. Lì si chiama tra l'altro Fortunato. Come on, vieni, vieni, vieni. Oh, finalmente. Vediamo perché qua la storia entra nel vivo. Ehm? Ops. Penso che tu abbia mancato il tempo qui. Puoi provare ancora? Non masticare il chupa chups. Che ti fa male i denti. Non è come si dispera. Ma è possibile che non succeda nulla? È rotto o cosa? Mmm. Potrebbe essere un raro caso di no poweritis. Devi venire a parlare con me più tardi, Nino. È molto... Un caso molto, molto interessante. Perché? Io suppongo che... Professore, richiedo un match di dodgeball. Durante la cerimonia. È altamente irregolare. Un match, ora. Sembra che... Sappia che cosa fare, cosa chiedere. Mi piace. Ok, organizziamo. Respira profondamente, Fortunato. Respira. Vabbè, sarà poi una sorta di preste quello lì. Boris? Le palle? Eh, vabbè. I palloni, ecco. E ora andiamo. E ora entriamo nel vivo delle meccaniche. Ovviamente noi giochiamo. Gioca uno alla volta, almeno in questo caso. Questo è un match introduttivo. Sullo stesso campo, ok. E impareremo anche a raccogliere la palla. Ce lo diranno più avanti. Io lo so già, ma in realtà seguo quello che il gioco vorrebbe che io facessi. Quindi in questo caso, primo che va, la prende e lo colpisco, ok. Oh, po, 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 po. La manco. Ok. Nino, se posso, vorrei parlare al ragazzo per un momento. Ok, il suo compagno di squadra. Sai come prendere la palla? Devi premere Z o J. Ok, il tasto a fianco alla K. Richiede un po' di tempismo. Lo proviamo. Ok. Puoi difendere da te stesso. Ok, dai, 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 fammi provare. Dai, lanciami la palla. Quando è veramente vicino a te. Vai, proviamo. Tre volte. Ok. Due. Beh, potresti prenderlo tu, dato che mi hai insegnato come fare, scusa, no? Ok. Grande. Adesso dovrebbe insegnarci anche come fare il cambio dei giocatori. Quindi. Aspetta che è caduto. E gli do un'altra ripassata. Ok. Ok. Cambio. Voglio provare l'altro adesso. Lasciami vincere il match. Ah, ragazzo nuovo. Passa con l'ai o l'ai. Ok. Gli do il cambio. Si è preso lui il colpo, però. Lui un sacco di vita. Minga, è stata una ammazzata. Gigante. Grande. Victory. Grandissimi. Io ho perso. Non avevo mai perso prima. È stato un grande match. Calmi. Pensi che sia stato corretto? Ci siamo... Vabbè, in sintesi ci accusano di non essere... Non aver vinto correttamente. Vabbè. Va bene. Vabbè, se ne va al dormitorio. Ehi, aspetta quello lì con la faccia quadrata. Dove va? E a proposito di te... Otto. Otto. Hai perso gran parte della cerimonia. Vieni alla lobby della scuola. Va bene. Va bene. Va bene. Saltiamo tutto. Facciamo double Q. Così saltiamo tutto. Ah, lo velocizza in pratica. Ehi, hai fatto un bel match. Grazie. Hai visto la mappa della scuola? Puoi segnarmi l'edificio principale. Ok. Si fa molto interessante questo... Perché è entrato dentro di me? Va bene. Abbiamo aperto... Possiamo rotolare anche. Che minchiata. Per muoverci velocemente. Va bene. Va bene. Allora, abbiamo il nostro inventario. Cioè, praticamente noi abbiamo la possibilità di avere il team con tutte le mosse e le abilità che si sbloccano salendo di livello. Abbiamo la mappa e le quest da poter fare. Abbiamo gli item che si possono usare. Abbiamo l'equipaggiamento della squadra di dodgeball. E la possibilità di salvare. E poi è tutto ovviamente guidato da una storia. Che si fa comunque molto, molto, molto interessante. Perché abbiamo preso una palla così? Fortunato. Allora, fortunato. Ora, ragazzo mio, otto. Ti proverò a fare questo briefing. Ogni anno la scuola richiede di far salire le schive le abilità ai propri studenti. È il nostro compito assicurarci che gli studenti stiano facendo, facciano, faranno il giusto allenamento e migliorino alla propria tecnica. E quello è, ma caco, non dimenticare lo sviluppo della forza. Sì, e anche l'agilità è chiamato dodgeball, non in faceball. Questa è una bella battuta. Ne aiutano tutti. Va bene. Se la scuola può provare che ha fatto un lavoro soddisfacente, può nominarti... Errore. Vabbè. Va bene. Questo sembra interessante. Un torneo, lo voglio. Devi... Ho bisogno di due persone in più, di formare un team. La deadline è oggi e quindi abbiamo bisogno di crearci due persone. Cioè di prendere due persone con noi. Quindi... Chissà chi saranno. Quindi a questo punto ci parte una quest. Parla Balloni. Outside. E Balloni è questo. Ovviamente c'è la terza forma di palla. Allora, Otto. Sto pensando di introdurti a Naya e Chiabo. Potrebbero unirsi al tuo team. È abbastanza... Sono abbastanza sicuro di averli visti vicino alla biblioteca. Vai lì. C'è un marker sulla tua mappa. Ah, ehm... Terò i tuoi punti vita pieni. Se ti fai male, vieni all'infermeria e sarò lì. Ok. Vabbè, devo andare di là allora. Molto interessante tutto questo. Con la C lo togliamo. Ma mi chiedo... Ma se io posso... Io travolgo qualcuno? Aia. Che bello il campus. Non so perché ho preso una palla, ma vabbè. Bene. Siamo qui. Lascia che ti introduca all'area di relax. Che bella grande questa. Siamo totalmente fuori dalla zona di istruzione questa. Ok, l'ho vista. Che hai da dirmi in proposito? Questa è la libreria. La biblioteca, un negozio. E c'è il dormitorio. E' la parte favorita della scuola. E' abbastanza di relax. E non ci sono troppe palle volanti. Ah, finalmente posso vedere Naya e Chiavola alla piazza. Ok. Andiamo da Naya e Chiavola. Così mettiamo insieme la prima squadra. Per poter partecipare poi al torneo. E ovviamente la deadline è oggi, quindi... Ah no, dobbiamo andare giù. Ok. Eccoli qua. Ehi amici! Sono... Scusate, sono nuovo. Ah, scusami ragazzo nuovo. Ho già... Mi sono già unito a un team. Eh? Ma non ho ancora chiesto. E più che... Cos'è questo odore? Ok, va via. E questo... Eh... Consiglierei di smettervi di mangiare cipolle. Vuoi unirti al team di Otto? Stai parlando a me? Sembro qualche bambino nuovo... Devo farmi una faccia più... Più aggressiva. Vampi. Nuovo ragazzo, vuoi giocare un po' di dodgeball? È quello che volevo sentire. Ok, allora giochiamo un po' di dodgeball. Ok, ti sfido. Inizi tu? Va bene. Tutte e tre le palle, mi lanci? Va bene. Vediamo come te la cavi. E... Che cosa stai facendo? Vabbè. Lo prenderò... Aia! La palla l'ho presa. La palla esplora e tiene in mente. Mamma mia, me la mancata. Ok. Così ho perso la palla che ho appena preso. Adesso ti suono io. Come una zampogna. Ok. Aia, 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 aia! Aia! Adesso ti colpisco io però. Ok. Game set. Ho vinto. Victory. E' un po' come si faceva con il combattimento Pokémon in cui ci sfidiamo, si ci sfidiamo e poi... No, mi scusa era buona per tirare fuori Pokémon e sfidarsi ovunque capitasse. Non è assolutamente male e potrebbe prestarsi anche un approfondimento con un secondo video. Però ovviamente qua attendo un vostro feedback per sapere se vi piacerebbe continuare a provarlo. Il gioco sembra interessante calcolando il fatto che ci sono tante cose da sbloccare dall'equipaggiamento, gli item, il team che dobbiamo mettere insieme, la mappa intera della scuola, quindi la possibilità di andare a consultare e vedere View Map, vedete tutta la zona della scuola esplorabile. Il gioco mi sembra fatto veramente bene. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!